Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa profile direttamente sul canale di Yann che ringrazio per avermi dato l'occasione di poter postare questa profile il video di oggi è dedicato a una profile Branded Blue Eyes mazzo che mi sta divertendo in una maniera assurda veramente e mi piace davvero tanto questa versione e cosa dire, carino, molto carino, ha delle interazioni molto interessanti secondo me e io direi che possiamo passare alla lista se siete d'accordo allora partiamo dai mostri è una lista molto diversa da quella pura che avete visto l'altra volta allora giochiamo, solo due gialli perché il terzo non serve qua dentro questa carta deve stare sempre nel cimitero non deve mai salire in mano deve stare solo ed esclusivamente nel cimitero non c'è nel cinema quindi solo due gialli e basta poi gioco una sola abisso un jet e uno spirito i brick del mazzo fondamentalmente questo un po' meno avranno questi due sì allora abisso è qua sempre per lo stesso discorso dell'altra volta perché ti adda lui ti adda da poli e quindi ti fa un più due in mano qui c'è spirito perché spirito ho sentito l'esigenza di un nome in più perché a volte Pietra dopo che tu ti sei dato questo o lui sentivo l'esigenza di un nome in più e quindi facevo special a lui e fa ciclone cosmico che banna il secondo effetto non lo faremo mai perché avremo sempre gli occhi blu al cimitero e sentivo l'esigenza di un nome in più quindi ho pensato a lui non è male affatto per niente ovviamente non deve mai salire in mano e questo niente il reparto dei grossoni e Jet come vi ho detto è forse una delle carte più fastidiosi che ci sono qua dentro poi giochiamo due pietre come ho detto non tre perché non mi serve la terza e forte sapete tutti cosa fa pietra secondo me la carta forse più forte di occhi blu qua dentro e con branded fusion ve la mandate al cimitero per fare albion dopo in hand phase triggerata effetto quindi fortissimo poi giochiamo solo due dittatori e non tre perché nel caso non si fosse capito il mostro senza effetto deve stare nel cimitero lui ve lo milla da mazzo per farlo special e farlo special soprattutto vi serve per avere un mostro sul terreno per farci saggio sopra oppure semplicemente per dar fastidio perché appunto l'effetto dice che dopo c'è scegliamo noi gli attacchi dell'avversario se controlliamo un occhi blu e molto spesso avremo sul campo oggetto avremo abisso quindi è molto fastidioso e poi ha l'effetto di scartare uno per rebornare un occhi blu che a volte è interessante fare il ciclone cosmico più di una volta insomma e quindi solo due non tre per me va bene non so pensavo di tagliarlo a uno ma almeno sono sicuro di mandare i brick al cimitero solo due saggi perché appunto addano veiler e soprattutto per l'interazione che ho detto prima che fate special voi ci fate saggio sopra evocate abisso scusate e date due in mano quindi giochiamo per questo e fanno meno del lavoro che fanno nella lista pura quindi ho pensato di tagliarlo finiti i mostri di archipelite il gioco un levy che è puramente sperimentale però lo volevo provare ho detto perché no anche se qua dentro anche lui fa meno del lavoro che fa nella lista pura perché tipo lui non può attaccare quando attiva l'effetto e possiamo interagire con tutti e tre gli effetti qui dentro e purtroppo lui non può attaccare come ho detto e non possiamo nemmeno farci exige sopra perché spoiler non giochiamo exige qua dentro e quindi purtroppo fa meno di quello che dovrebbe fare però mal che vada rompe due e non è poco poi giochiamo i tre albaz tre per forza perché dobbiamo giocare ne tre e una super polis che praticamente che però lo può interagire se si becca veiler è un problema però tipo normalmente prima di tirare albaz baitiamo tutto quello che potrebbe avere l'oppo e quindi andiamo sul sicuro con albaz e con quello che gira in giro nel meta adesso è molto forte secondo me con le fusioni che sono uscite nello structure e quindi tre albaz niente da dire fortissimi e in più sono drago cosa molto importante poi giochiamo le due kit della ragazzina speciale perché voi direte perché ne giochi due nel gioco due perché oltre ad andare branded fusion che è la cosa che ci interessa e può entrare special ci serve perché appunto quando ha di branded devi ribetterti uno nel mazzo se peschiamo i brick come i gialli eccetera ce li ributtiamo dentro e così non ci pensiamo più quindi due due perché ci hanno questa cosa interessante di mescolare dentro i brick ed è siccome è molto forte qua dentro appunto perché risolve dei problemi poi la polpetta speciale della nonna questa qua che ti fa fare dragone a caso e ti fa fare anche meciaba quando proprio una cosa molto triste se avete già un mostro luce fatta lui normal l'effetto fusione contatto e fate meciaba quindi vi ho già spoilerato un po' cosa gioco nell'extra reparto entrap gioco due bell tre veiler e visto che ci siamo visto che parliamo di entrap giochiamo triple in perma perché si allora perma forte sempre tra l'altro questa carta ce la possiamo risettare da cimitero con un mostrone extra veiler forte sempre bell perché con quello che gira in giro adesso secondo me è forte mi sono trovato molto bene a due per e quindi forte indubbiamente queste sono reparto ht direi che possiamo vedere le magie magia giochiamo le tre le tre carte più forte del mazzo proprio intoccabile a tre e manda praticamente tutto il mazzo sta carta e ripeto c'ha l'interazione carina con pietra perché nel festi fa evocare un occhio blu da mazzo e niente ragazzi è fortissimo c'è questa carta assurda perché ti fa fare dragon ti fa fare un sacco di roba è veramente forte la carta incredibile poi una delle magie più forti del mazzo super poli che adesso è fortissima nel gioco di main perché non sono mai gialle queste carte e forti veramente qui dentro poi specialmente perché il gioco anche dei target di super poli è abbastanza sia generici che speziati quindi tra parentesi uno molto speziato e forte veramente forte adesso secondo me super poli poi giochiamo una dragon lord e trash rain appunto per non briccare sul fatto di mandare i gialli al cimitero e quindi sbricarci un po' il mazzo e prima ne giocavo solo due in questa versione poi ho sentito l'esigenza del terzo perché la vedevo il prima possibile quindi secondo me è tre fortissimo ho scoperto che è forte tre appunto lei che ti riborna a un livello 8 che sarà sempre di solito trattato questa carta ti consente anche di ribornare albion e fai una prevenzione da distruzione quando è al cimitero non più di una perché veramente troppo poi visto che questo mazzo nel caso non si fosse capito prettamente going second cattivissimi tre dark ruler tre dark ruler cioè sta carta mi ha fatto rompere delle borde assurde solo con dark ruler e veramente sta carta qui dentro è devastante veramente cioè solo con dark ruler a volte ti fa vincere la partita veramente tipo quando dopo ti fa 800 negate questa carta è micidiale veramente è forte veramente prima ne giocavo due poi ho provato la terza con tre davvero incredibile poi alla fine concludiamo con colled e polimerizzazione che è addabile con quel draghetto e vabbè colled perché entrap ci fanno male quindi niente questo è il mazzo di main passiamo all'extra giochiamo drago pazzo furioso questo qua che questa carta è assurda cioè veramente non ha senso e la carta che non targetta quindi può bannare dragoon soprattutto visto che adesso despia lo gioca dragoon è forte e target di super poli a volte nel caso albats non dovesse risolvere e niente la cosa più forza di staccata è che non targetta quando lascia il terreno tranne quando viene rimbalzata rompe tutto e forte due per abbastanza standard secondo me molti listi ne giocano uno in base a quello all'engine che giocano del mazzo che giocano insomma poi gioco un lubelion e due albion che vabbè albion fortissimo che ti dà accesso a dragoon perché se bagniamo la polpetta albats ci fa fare dragoon perché polpetta sostituisce un nome quindi mago nero e dragoon dice anche un mostro drago con effetto quindi albats e lubelion forte perché alla fine il gioco è solo uno perché è molto situazionale però a volte è molto forte e niente lui ha da brand fusion incredibile fortissimo e tra l'altro con abisso quando è al cimitero che c'è l'effetto di pompare 1000 pompa tutti i livelli 8 drago quindi pompa anche lui che diventa un 3500 a volte per dire un bitone può anche diventare e poi altre carte che gioco gioco lui solo perché mi può dare albats quindi fa bene cioè io non mi dispiace vero nell'extra poi gioco lui che una volta mi ha fatto vincere una partita sto coso è veramente fortissimo veramente testandolo non è male quindi avevo spazio ho giocato è forte poi scusate è partito è partito da carte va bene e gioco poi uno di questo perché occhi blu più un drago generico quindi forte e poi cosa forte perché quando lui attacca tutti i mostri praticamente ha lo stesso effetto dell'albats fusione che deve uscire solo che non ti ha da poli a caso l'oppo non può attivare trappole in battle che lo coinvolgono e se appunto distrugge un mostro puoi settarti una trappola dal cimitero quindi ti puoi settare in perma per dirti è forte poi giochiamo meciaba come ho menzionato prima per il discorso che vi ho fatto prima con la polpetta e niente pseudo boss monster dragoon e chimera chimera che ti fa pescare il dragone perché è pazzo sgravato sempre più esaustivo di così i target di super poli target di super poli target di super poli target di super poli e target di super poli con tutti i despia che girano adesso questo qua una volta ne ho tirato ho tirato una super poli contro un despia che ho fatto lui è veramente fortissimo volevo provare a giocare masquerade qua dentro ma per ora sto provando solo lui e lo proverò anche con masquerade sicuramente quindi per ora questi sono i target principali di super poli che sono poi i più generici tra l'altro bellissimo il fango drago in francese perché è più forte sappiamo tutti e vabbè la costopelia e il starving venum sempre per la side è puramente sperimentale però non è per niente male però non sarà quella definitiva gioco tra Nibiru perché il token intanto lo puoi levare e con quello che gira adesso Nibiru è fortissimo prima ne giocavo due di main però poi alla fine non sono finiti nel side perché perché sì e due lancea forti quasi tutte le carte del meta adesso bannano roba quindi poi neanche noi bagniamo così tanto perché alla fine noi bagniamo pietra per raggiungerci cose in mano ma nel turno dell'oppo questa carta è praticamente gratis non poi quando l'oppo ci fa partire primi giochiamo due di queste una di queste che adesso questa qua tra l'altro provandola è molto forte perché noi giochiamo tanti tipi diversi se ci pensiamo i draghi non sono così tanti perché giochiamo incantatori kit che è una bestia per dirvi anche l'altro l'altra fusione di albaz è bestia non è drago incantatori insomma giochiamo tanti tipi diversi sta carta è ottima perché quando abbiamo tipo jet più lui dopo fa un po' fatica testandolo quindi secondo me è forte addirittura volevo giocarne tre ma però ho detto due va bene va bene così ah questa perché mi è capitato di risolverla quando l'oppo mi ha spaccata con di pie e ti fa evocare tutto praticamente è una sola non più di una perché che risolva l'effetto è molto raro però può essere un bait molto interessante perché tu magari senti questo l'oppo pensa che c'è imperman si fa di pie se lo spacca e niente mi è capitata una cosa simile testandolo quindi forte contro ellic tutto il male del mondo questa qua contro ellic fortissima lo sappiamo tutti che è forte contro ellic poi questa che adesso è molto forte te lo vedo da anche lo structure quindi perché non giocarda è forte specialmente adesso che girano un sacco di fusioni però so che coinvolge anche te però tirata al momento giusto secondo me è molto forte qui molto due non tre perché non ne sento l'esigenza di giocarne tre e poi puramente sperimentale gioco due punto di di avvertenza perché alla fine ho pensato sta carta non è così male l'ho provata cioè non è male secondo me anche perché è discretamente forte anche contro svorso secondo me vedrò come si comporta prossimamente ma per ora la sto provando secondo me non è male vedete un sacco di trappole perché l'oppo se è intelligente ti fa partire primo al secondo game e l'ammazzo è puramente going second quindi l'oppo ti fa partire sicuramente primo perché hai albaz che da solo non fa niente hai dark ruler che è forte solo nel turno dell'oppo vabbè ce l'hai in mano te lo tieni per dopo però magari dopo il turno dopo magari ti otk e fa cose e quindi mi servono un sacco di cose fastidiose che possano almeno farmi sopravvivere nei turni successivi quindi questa è la side puramente sperimentale che sicuramente ridarò un occhio però per ora sto giocando così volevo provare a giocare falce e sanctum perché sempre per partire prima perché sanctum ti porta falce almeno l'oppo lo restringe leggermente visto che meno che l'oppo non gioca flander che non usa extra insomma ci dia un problema però diciamo che per flander ce ne può essere solo uno quindi quello di però ovviamente dopo il primo game insomma e niente questa è la lista che cosa posso dirvi il mazzo mi piace davvero tanto non è sicuramente un tier 1 un tier 2 non è nessuna di queste cose qua lo specifico però se vi piace una rivisitazione di blue eyes che bricca molto meno i bric che ci sono ma ripeto te li puoi giostrare e niente io ringrazio Anna per avermi permesso di portare questa lista spero che voi player gradite e fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima lista ciao ragazzi e dal vostro lord è tutto